Stiamo cercando di comprendere come si vivano le restrizioni imposte dalle normative anti-Covid per le varie categorie produttive. Abbiamo analizzato, ci siamo confrontati per esempio con gli operatori del settore benessere, quest'oggi ci confrontiamo con gli operatori del mondo dello spettacolo, della musica, un settore che vergognosamente è stato definito non essenziale, come se i lavoratori avessero evidentemente una diversa dignità tra loro, esistessero delle discriminazioni. E allora ho al mio fianco un musicista, un operatore del settore tarantino, Virgilio Quero, che giustamente vuol dire la sua. E allora, Quero, intanto il settore dello spettacolo è fermo, completamente paralizzato. Con danni enormi. Con danni enormi per me e tutti i miei colleghi, io porto la voce di tutti i miei colleghi che sono ormai fermi da ben un anno, siamo stati deputati non essenziale, la musica si è spenta e deciduta da inoltre un anno. Io da uno sistema impazzito, da un sistema sceriffale, da una persona che oggi ci dice potete andare avanti, poi dopo d'un tralto direttamente chiudere. Virgilio si riferisce, ora analizzeremo meglio il discorso, alle decisioni della regione Puglia e del suo governatore Emiliano. C'è un mix esplosivo nei confronti della categoria, perché ci sono da un lato i provvedimenti governativi, dall'alto ci sono le decisioni della regione, decisioni della regione che molte volte vanno in urte in conflitto con il governo e come si suol dire voi vi trovate usando un'espressione tarantina come il ciuccio in mezzo ai suoni o peggio ancora come la pallina di ping pong che viene sbattuta da una racchetta all'altra. Emiliano in estate urlava e ballava, invitava tutti veniti a ballare in Puglia perché c'era la campagna elettorale. Finita la campagna elettorale, ecco che cade il volto di Agnello e subentra quello del lupo, in senso metaforico ovviamente. Lui c'è in pratica oltre al nostro settore musicale, dietro di noi ci sono altri tipi di lavori come gli stabilimenti balneari, come i bar, tutte le discoteche. Logicamente noi fatturiamo in maniera economica in Puglia, quindi grazie a noi, come lui ci ha definito non essenziale ma bensì il dovere e il piacere di tutti quanti a fare musica. In campagna elettorale eravate essenziali? Eravamo essenziali, è normale perché poi quando passano le votazioni... Passa il santo, passa la festa. È normale, questo è il giochetto che ci ha fatto questo caro signore Emiliano. Noi siamo molto arrabbiati e siamo sul punto di guerra, proprio per voler riprendere a far sorridere la gente. Perché la cosa è più bella, sorridere fa bene alla vita e alla salute. Anche perché io, ripeto, fermo restando tutte le situazioni del Covid, perché nessuno le nega, nessuno nega i numeri, ci mancherebbe altro. Però, ripeto, si poteva meglio disciplinare la situazione. Perché poi vedete, i supermercati quando vengono presi d'assalto, lì tutto va bene. Le palestre che si chiudono e il campionato di calcio che continua. Cioè ci sono delle discrazie proprio gravi. E poi c'è anche un altro fatto, che quando parliamo di ristori, si può anche dire chiudete, ma io Stato, devo dare dei ristori economici sufficienti, cosa che accade in altri paesi europei, in Germania, ma non in Italia. Non puoi dire all'imprenditore, al lavoratore, chiudi e arrangiati. Ti do qualcosina, penso anche alla Cassa Integrazione, che veramente rappresenta briciole. Banale, perché alla fine noi abbiamo bisogno di aiuti, abbiamo bisogno di sostegno, e soprattutto abbiamo bisogno delle persone, abbiamo bisogno di essere, di non avere paura, di non vivere una paura perenne. Perché avere paura vuol dire girarsi e fare indifferenza davanti a questo clamoroso sistema impazzito. Abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno di essere compatti, abbiamo bisogno veramente di un aiuto economico, perché anche noi abbiamo bisogno di far mangiare le nostre famiglie e i nostri figli. Bene, Virgilio è un giovane tarantino, insieme a lui c'è tutto un insieme, un gran numero di giovani che non vuole mollare, che vuole dare, che ama Taranto, che vuole dare il suo contributo alla città e che vuole vedere rispettata la dignità di lavoratori. Nel settore dello spettacolo, che non è assolutamente un settore marginale, non è sicuramente un settore di serie B. Sì, è normale, perché Taranto vive, è una bellissima città, vive di tradizione, vive di musica, soprattutto in questo periodo che Taranto è tanto legata a una settimana santa. Logicamente la musica fa parte anche di questa grande tradizione, anche le bande musicali che sono ormai ferme da ormai un anno e mezzo, quindi non sappiamo più a chi rivolgerci e a chi dobbiamo andare a dare fastidio. L'unica persona ora che vogliamo, soprattutto delle risposte attuali, è Emiliano. L'unico punto di riferimento in questa Puglia data così, alla deriva. Una deriva... No sbando. No sbando. Per non parlare poi di come viene gestita la situazione sanitaria in maniera pedestre, davvero. Quindi parliamo proprio di un dilettantismo amministrativo. Sì, ma logicamente non si parla, io non nego assolutamente l'esistenza del Covid, ma bensì anche delle persone che vivono un disagio di depressione pandemica, stando chiusi nelle case, stando chiusi a essere isolati, si sono raffreddati i rapporti interpersonali con le persone, non ci sono più quel modo di relazionarsi, si vive solamente di solitudine di una persona, vedo solamente una società depressa, una società che non riesce ad andare avanti, impaurita, che non riesce neanche più a far rispettare i suoi doveri e i suoi diritti soprattutto. Dobbiamo andare avanti ora, non possiamo più fermarci, dobbiamo essere compatti. e chiedo grazie anche a te Luigi che ho massima fiducia nei tuoi confronti di accordarci ad essere uniti e fare una battaglia, perché la guerra è un'unica cosa, ma le battaglie bisogna vincerle giorno per giorno. Fondate una porta aperta perché io sono dalla parte del cittadino, ho sempre sfidato i poteri forti, ho pagato anche sulla mia pelle, ho sfidato le istituzioni e mi sento un cittadino che insieme a tanti altri cittadini di buona volontà vuole dare il proprio contributo per Taranto. Certo, noi siamo sempre dalla tua parte, il mondo dello spettacolo è dalla tua parte, ti sarà vicino sempre, fino alla fine. Grazie. Noi siamo orgogliosi di rappresentare Taranto, perché Taranto ha bisogno di essere rivelata bella città, forse la più bella città della Puglia e non solo. Grazie.